e 9 faccio tirare faccio tirare vai 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 dai 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 azione dai vai 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 dai 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 Grazie. Va bene, va bene. Va bene, va bene, vai. Dai ragazzi! Difesa! Basci! Bravo Ciccio, bel cambio! Ah, aiutare! Avvicinarci! Viene. Fallo. Bravo! Bravo! Vai, vai, vai! No! Tieni, tienila! Bravo, bravo! Tieni, tieni, dai! Agite! Bello! Ancora, dai! Ancora, ancora! Ancora, ancora! Asci! Brava! Viene! Viene! Bravo, viene! 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 Ancora! Viene! Sì, dai! Dieci! Viene! vai 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 dai 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 bravo così colleghiamo bravo dai 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 perché se lo deve ricordare stai pari gamba stagli pari stagli pari dai lì con le gambe vai 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 guardava ma adesso un po' dai ragazzi attenzati dai dai non può passare bravo 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 ragazzo prendila vai vai arriva gira 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 bravo vai vai bravo 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 dai 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 bravo attenzio attenzio vogliamo perdere? mamma via via bravo vai dai 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 E' flagrante, 3. Ah si? E' questo? Prendi la macchina! Vai Michi! Vai! Bravi ragazzi, bravi! Dai! Prendi la palla giro! Innalcio! Via Michi! Via Michi! Via Michi! Bravo, bravo, tienilo! Tienilo! Coppe! Non fa mai! Tienilo! Eh eh, prenditelo! Oh! Tienilo! Dai, dai oh! Tienilo bassa! Tienilo! 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 Tienilo bassa! Noooo! Tienilo bassa! Si tira! Tieni giù la mano! Matti! Vai, venti! Aiuti in mezzo Matti! In mezzo! Nooo! Tienilo! bravo dai bravo Alex tienilo vai a prendere la palla dai vai su bravo bravo dai Matti dai chiusa 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 ah si allora lo scarico sta lì stai lì Pietro ma cosa fai? bravo che buona dai dai oh passate 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 fallo eh fatti un fallo aspetta aspetta guarda cosa c'è mezza lega mezza lega così oh mamma mia oh che bisogna tagliargli un dito come come io lo taglio una la mattia per prima se ne tagli una dai questo prendila ah la prendi oh si dai 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 che cosa più difficile le facciamo ah dai 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 vai dai 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 Grazie Grazie.